E' praticamente Emerson in prima battuta ad andare su Adriano quando Adriano prova a partire in posizione più arretrata. Camoranesi cerca altre persone, arriva Ibrahimović, Zlatan! Ibrahimović 1-0! Non sono andati ad attaccare la palla, l'hanno fatta filare sul primo palo e quando ti giri a quel punto sul secondo palo è arrivato Ibrahimović tutto solo, non ha avuto difficoltà a battere Giulio Cesar, ma un cambio di gioco, cross perfetto, però la difesa dell'Inter ha fatto passare la palla colpevolmente. E Ibrahimović va da Balzaretti e poi soprattutto va a abbracciare in panchina, eh non ho visto qui. Qui il replay Camoranesi, il pallone passa, arriva Ibrahimović in anticipo e la mette dentro facile con il sinistro. E l'ottavo gol stagionale di Ibrahimović, il quinto in campionato. Perché quando vai sul fondo il difensore deve andare a coprire sicuramente il primo palo e andare a chiudere, invece è rimasto troppo dietro. Dunque Juventus in vantaggio e resta più 12, Adriano prova a rispondere subito, è toccato Thuram, poi Chiellini che vuole la profondità. Colpo di testa di Samuel Sanetti.